3, 5, 4, 3, 2, 1 E vai, buon divertimento! Ciao, Gordi! Divertitevi! Ciao, ciao! Ecco i Folletti, ballate i Folletti, guardate che sono belli, ciao! Ciao, Silberio! Benvenuto, belluno! Ciao! Abbiamo anche Babbo Natale in maglia rosa, proveniente dal Giro d'Italia, eccoli qua che sono venuti oggi. Grazie, ringraziamo tutti quanti i partecipanti, e ne avete perso uno perché c'è una bambina vestita di rose indietro, ecco, un biglietto, il conto, è il conto da pagare, sì, e quant'è il conto? 600 euro più IVA, 650 più IVA, woman, woman for freedom, le donne libere, donne per la libertà. Però vai questa, vediamo qua. Caro sostenitore, oggi vorrei raccontare la storia di un grande albero, in Nepal, e compagnia bella, insomma, dopo Verrano avrà fatta la distribuzione di questi volontini, nel quale c'è scritto la storia del Nepal. E adesso ci ascoltiamo, ci staranno qua.